Bella a tutti ragazzi, oh hi! Siamo qui oggi in questo vlog per dirvi che insomma il canale che avevo iniziato principalmente per Minecraft League of Legends diventerà solo per Minecraft e ci sposterà su Jswash che è il nuovo canale J-S-W-A-S-H che troverete il link in descrizione a questo video ovviamente, dove porterò gameplay di tutti i tipi di Minecraft dalla vanilla alla Skate Wars, Skyblock, Parkour, Hardcore, Singleplayer, Farm tutto, insomma, tutte le cose che posso portarvi ve le porterò e questo canale rimarrà principalmente a scopo di hobby cioè quando avrò dei giochi nuovi, nuova roba insomma cose così cose che mi vengono in mente idee, le posto qua mentre quello là è dedicato specificatamente a Minecraft e in tutte le sue forme perché ho riscoperto l'amore per Minecraft e per, insomma, siccome anche i miei amici e le associo giocano un po' me l'ho riscoperto e voglio portarvi molti contenuti di quel tipo cioè di tutti i tipi di gioco inventati qualsiasi cosa anche del murder un mucchio di roba quindi adesso vi lascio che vado a fare qualche gameplay e ci becchiamo in una prossima puntata di Minecraft sul canale nuovo oppure qua con una puntata a caso bella a tutti ragazzi io ho hai già qui just watch Grazie a tutti